buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme la giornata la giornata di oggi giovedì 8 agosto 2024 vediamo subito chi si festeggia oggi vediamo a chi dobbiamo fare gli auguri ed ecco la grafica ecco il santo il san domenico di guzman che visse nel dodicesimo secolo era uno spagnolo era nato a cala ruega in spagna pensate che a 14 anni fu avviato all'università di valenza dove ottenne la laurea in retorica filosofia e teologia vedete come era un ragazzo molto emancipato molto adatto agli studi e molto molto interessato soprattutto alla vita ecclesiattica divenne sacerdote ed entrò tra i canonici regolari di sant'agostino fondò durante la sua vita diversi monasteri divulgò la devozione soprattutto del rosario quel rosario che poi il papa dopo la vittoria di lepanto insomma divulgò in tutto in tutto il mondo della cristianità e operò soprattutto domenico per la conversione degli albigesi morì a bologna nel 1221 quindi auguri a tutti i domenico vediamo ora le previsioni del tempo ieri sera c'è stato un breve temporale che ha spazzato l'aria con lampi e una ventolata piuttosto forte qualche goccia di pioggia ma nulla di che preoccuparsi oggi sereno o poco nuvoloso soprattutto al mattino qualche addensamento si potrà intravedere nel pomeriggio durante nel corso nel corso dicevo della giornata pomeridiana soprattutto in zona penninica con locali piovaschi le massime saliranno sui 35 gradi la minima si è testata a 23 gradi i venti sulle coste da nord e nord ovest nell'interno da ovest e sud ovest il mare rimane calmo il sole è sorto alle 6.02 e tramonterà alle 20 e 23 questo per quanto riguarda il quadro della giornata ora passiamo celermente alle notizie vediamo l'apertura che fa il corriere adriatico sulla pagina di Fano ebbene siamo in periodo di vacanza ma il corriere già pensa alle scuole in realtà è l'amministrazione comunale che pensa alle scuole perché durante le vacanze si cerca di curare quella manutenzione che poi fa sì che le strutture scolastiche gli edifici scolastiche sono pronti ad accogliere gli studenti a settembre e ad ottobre e allora vediamo quello che è avvenuto sopralluoghi nelle scuole comunali e l'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari ecco i lavori messi in agenda l'assessore ha compiuto un sopralluogo insieme all'assessore ai servizi educativi Loredana Mangernino insieme poi ai tecnici e dirigenti del comune ha compiuto un sopralluogo in diverse scuole comunali e ha preso nota dei lavori che bisogna eseguire i lavori che cominceranno subito ovviamente un capitolo fisso per le manutenzioni e questa la novità che viene introdotta dalla giunta Sir Filippi in passato i fondi per curare questi lavori dice l'assessore erano così reperiti saltuariamente in maniera un po' così fortunosa ora invece i fondi vengono assegnati stabilmente a bilancio non occorre ricorrere a provvidenze straordinarie come per esempio il PNRR basterà il bilancio comunale a prevedere un capitolo per le normali manutenzioni negli edifici scolastici in modo che ogni anno sappiamo poi che le scuole hanno sempre bisogno di interventi vuoi per una facciata vuoi per degli infissi vuoi per chiazze di umidità insomma occorre sempre intervenire curare la normale manutenzione per questo servono sempre fondi disponibili e quindi è quello che sta facendo l'attuale giunta e vediamo quali scuole sono state interessate dall'ultimo sopralluogo effettuato da Ilari e a Mongernino. Alla Manfrini sono state scoperte delle infiltrazioni quindi necessario intervenire perché si abbatta il tasso di umidità all'interno delle aule. Alla scuola gentile del porto si è verificato la tenuta dei lavori che si sono verificati sul tetto perché vi ricordate è caduto un pezzo di intonaco una cosa veramente che ha destato l'allarme dei genitori nei mesi scorsi. Ora il buco è stato riparato e sembra che la situazione sia stabile. L'albero azzurro necessita di importanti opere di consolidamento per le quali si dispone di un contributo regionale di 144 mila euro. Alla De Cioraggi di Ponte Metauro sarà installata una nuova ringhiera e una passarella per persone con disabilità oltre poi a risolvere anche qui i problemi di infiltrazione d'acqua. Alla scuola Corridoni si rende necessaria la sostituzione di alcuni infissi e alcuni lavori per prevenire i costanti allagamenti del giardino. Quindi si si sta attivando. Non tutto sarà pronto per l'inizio dell'anno scolastico ma intanto i lavori cominciano subito e poi proseguiranno fino a ultimazione. L'altra notizia pubblicata a fondo pagina dal Corriere Adriatico riguarda una iniziativa, anzi una delle più interessanti iniziative della Fondazione Carifano. Si tratta del crowdfunding, un progetto che coinvolge tante associazioni del terzo settore, quelle che operano con il volontariato, affinché i loro progetti possono essere sostenuti un po' con i soldi che le stesse associazioni possono reperire nel territorio. E poi in base ai risultati ottenuti dai fondi che la Fondazione eroga raddoppiando appunto quello che è stato raccolto. Ebbene questa volta le domande sono state superiori ad ogni previsione, sono state 31, però solo 23 sono state riscontrate in linea con i parametri previsti dal bando e queste 23 saranno così finanziate con i soldi supplettivi della Fondazione Carifano. Vengono elencate nel Corriere Adriatico queste associazioni che riceveranno i fondi e dobbiamo dire che per farvi fronte la Fondazione ha aumentato di oltre 50 mila euro i soldi previsti inizialmente per questo progetto. Ora si è passati a circa 261 mila euro rispetto ai 180 che erano stati previsti inizialmente. E poi vediamo in questa seconda pagina un'apertura dedicata alle dichiarazioni del Sindaco Luca Serfilippi in merito al centro Alzheimer, un centro non solo diurno come quello che sta operando il centro Margherita, ma un centro stabile, un centro che possa dare alloggio ai malati anche di notte. Centro Alzheimer, ora tabella di marcia. Utilizzeremo i posti letto che ci spettano. Lo ha detto Serfilippi ringraziando anche la Regione perché l'assessore Salta Martini ha convenuto, l'abbiamo visto nei giornali di ieri, la necessità di dotare Fano di questo centro, un centro che poi farà riferimento anche a tutta la vallata dove purtroppo i casi di Alzheimer sono in aumento e sappiamo come questo morbo che dilaga non solo rende disabili i diretti interessati ma pesa alquanto anche sulle famiglie che si devono far carico di gran parte al giorno oggi dell'assistenza. La conferma di ieri sulla necessità di un nuovo centro Alzheimer a Fano da parte del Consiglio regionale ha detto Serfilippi è un punto fermo da cui partire per iniziare un percorso, un nuovo percorso condiviso tra Regione Marche, Comune di Fano e Fondazione Carifano che si è resa disponibile a dare il terreno che è accanto al centro Margherita per realizzare una struttura nuova H24, un centro residenziale nella nostra città. Quindi è un bellissimo progetto che speriamo che venga alla luce al più presto. Un altro articolo che riguarda Fano parla di manifestazioni, in modo particolare nelle due giornate centrali del mese di agosto, quelle del 14 e del 15, quando nella zona Porto ci saranno tutte le iniziative di Porto Futuro. DJ 7 sul carro Mangia Sogni ed è una collaborazione che Porto Futuro ha intrapreso con l'ente carnevalesca tant'è che l'ente carnevalesca tirerà fuori i suoi carri durante le giornate del ferragosto che fungeranno da palcoscenico per le orchestrine, per i DJ che si esibiranno in città. Datemi un carro allegorico e ne farò un palco, datemi un parcheggio e ne farò una discoteca. Questo è un po' quello che accadrà perché il parcheggio antistante Il Pesce Azzurro verrà insomma occupato da questa kermesse musicale di Ferragosto e il palcoscenico sarà appunto un carro carnevalesco ed è proprio quello che vediamo in questa fotografia. Ed ora lasciamo Fano, passiamo a San Costanzo dove si dibatte ancora sul futuro della discarica di Monte Scantello. Sappiamo come a San Costanzo ci sia una vibrata opposizione all'ampliamento della discarica cosa che invece l'ASET vorrebbe fare per assicurare a tutta la provincia un punto di riferimento essenziale per il deposito dei rifiuti a parte poi tutto quello che potrà venire, che potrà essere ricicliato. essendo vicino a San Costanzo i residenti ovviamente soffrono di questa presenza mentre se poi la discarica dovesse chiudere e i rifiuti dovessero essere mandati anche fuori provincia ovviamente le bollette ne risentirebbero. però insomma San Costanzo è favorevole, soprattutto uniti per San Costanzo, è favorevole a prendere una direzione contro la discarica di Monte Schiantello e per questo torna a chiedere all'amministrazione comunale di prendere una decisione condivisa, una decisione importante. Vediamo ancora come non cessa la lotta allo spaccio della droga. spaccio di droga arrestato due volte in cinque giorni a Pergola aveva patteggiato già quattro mesi ma lunedì si è fatto trovare di nuovo con 80 grammi di ascis si tratta di un 25enne del Bangladesh regolarmente inserito nel territorio con un lavoro come operaio in una ditta ma ieri mattina insomma c'è stata la convalida dell'arresto nel tribunale di Pesaro i carabinieri appunto lo hanno pizzicato con gli stupefacenti. Senigallia Senigallia si risolve un progetto che era rimasto così in fieri da tanti anni si tratta della curva della penna l'attesa finalmente è finita dopo 15 anni sono partite le demolizioni giù gli edifici abbandonati in via Leopardi si realizzerà una rotatoria nel posto appunto in cui verranno demoliti questi edifici Cameruccio un giorno memorabile l'assessore Gabriele Cameruccio ha annunciato questa decisione sarà fondamentale per snellire il traffico pronta a primavera questa nuova rotatoria primavera del 2025 e non possiamo non parlare del ROF a Pesaro il ROF come serata mondana non soltanto una serata culturale come quella di un riallestimento di una grande opera di Rossini Bianca e Faliero al ROF il red carpet più atteso e il caldo vince sul dress code abbiamo una sfilata di noti personaggi che sono stati fotografati all'ingresso del Palace Cavolini che finalmente accoglie rientra nella programmazione del ROF ebbene abbiamo questa sfilata questo articolo che potrà insomma destare curiosità a chi va in cerca insomma di queste notizie ebbene vediamo Bianca e Faliero con Roberto Abbado a dirigere l'Orchestra Nazionale della RAI e il coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno e questo è un inizio importante che è avvenuto nel cuore di Pesaro è uno degli eventi più importanti della Regione Marche ma anche credo in ambito nazionale c'era tanta attesa c'erano soprattutto tante tante personalità che hanno partecipato ne vediamo qui alcune per esempio la senatrice Liliana Segre che è venuta con la sua guardia del corpo poi anche l'eurodeputato Matteo Ricci con la sua mamma il vescovo con la giacca in braccio che lui soffre il caldo e poi ancora il sindaco Biancani con alcune altre con altre personalità abbiamo anche il prefetto Emanuela Saveria Greco e a destra Mattilde Ratti con il marito insomma vediamo queste personalità pesaresi ovviamente non è mancato nemmeno l'assessore Vimini il presidente della provincia Giuseppe Paolini e poi insomma tutte le altre personalità abbiamo anche poi un grande articolo pubblicato dal resto del Carlino anche qua abbiamo due pagine dedicate tutte a Roff il Roff riaccende alla città l'emozione del ritorno alle origini della gloria e poi Red Carpet e Orgoglio insomma era una serata mondana un'opera piuttosto impegnativa più di quattro ore di musica però una musica bellissima una musica che si ascolta volentieri e poi vediamo anche quello che segue quello che segue a Bianca e Fagliero ovvero l'equivoco stravagante è la seconda opera in programma sarà in scena questa sera al Roff questa volta al Teatro Rossini si inizia alle ore 20 si tratta della riproposizione del fortunato all'estimento del 2019 a firma della coppia Moschè Leiser e Petrice Courier che grazie anche alle trovate dello scenografo Christian Franquillat trasforma la scena in un vertiginoso gioco di spe che insomma è bello anche vedere dal punto di vista spettacolare questa nuova messa in scena allora dato che siamo sul resto del Carlino possiamo vedere l'apertura dedicata a Fano e questa volta vediamo una presa di posizione del Vescovo Andrea Andreozzi sull'articolo pubblicato ieri sempre dallo stesso giornale per quanto riguarda la temuta di partita dei frati di San Paterniano ebbene questo evento era nell'aria insomma è già da due anni che si parlava della possibilità che i frati chiudessero San Paterniano ebbene frati Capocini ormai sono ai saluti proseguirò io ha detto il Vescovo la loro opera mi prenderò cura del convento mi prenderò cura della mensa di San Paterniano però però dice il Vescovo nulla è stato ancora deciso e questo lascia presagire che se ancora qualche trattativa in ballo qualche possibilità che questa secolare presenza dei frati di San i frati Capocini di San Paterniano possa rimanere nella nostra città ed è una presenza preziosa perché non solo fa parte della nostra storia delle nostre tradizioni ma sono una presenza importante per tutti gli abitanti che vedono in San Paterniano una basilica a parte il fatto che conserva le spoglie del Santo Patrono ma è la basilica seconda solo alla cattedrale e c'è anche una presa di posizione di Tiziano Busca del Partito Socialista che dice se se ne vanno i frati sarà cancellata l'identità di fatto insomma una presa di posizione veramente forte a fondo pagina raccolte fondi associazioni e parrocchie in campo per quanto riguarda l'operazione crowdfunding della fondazione Carifano e poi vediamo un po' la preoccupazione la reazione dei concessionari di spiaggia alla nuova scadenza della direttiva Volkestein quella direttiva che fa sì che le concessioni balneari vengano rimesse a gara e quindi c'è la possibilità che gli attuali gestori possano perdere la possibilità di proseguire il loro lavoro c'è una manifestazione che viene così organizzata soprattutto in Romagna alla quale però i bagnini nostri non partecipano vediamo cosa dice l'articolo Spetro Volkestein nonostante il timore che le spiagge possono finire a gara i concessionari fanesi non aderiranno alla protesta di domani degli ombrelloni chiusi lanciati dalla Romagna ombrelloni aperti dunque ai bagni Arzilla sono 440 ombrelloni 90 gazebi come spiega il titolare Nicola Tanfani 35 anni ha detto la chiusura degli ombrelloni sarebbe solo un torto fatto ai clienti e quindi i nostri bagnini continuano ad operare e a dare un servizio a tutti i loro clienti vediamo a Urbino si profila anzi si mettono a disposizione i fondi per realizzare un nuovo asilo non si sa dove c'è un'ipotesi che è quella di Canavaccio ma ancora questo deve essere deciso i fondi comunque ci sono sono 720 mila euro messi a bilancio lunedì scorso nel corso della seduta del Consiglio Comunale e per quanto riguarda l'andamento della stagione turistica vediamo che c'è un andamento altalenante insomma non si è affatto soddisfatti di come stanno andando le presenze turistiche nel nostro territorio parla in questo argomento Boris Rapa che è stato consigliere regionale e comunque è un proprietario di un albergo posto a sud del fiume Metauro dice turisti in fuga dal Ferragosto nemmeno nella settimana del Ferragosto si potrà ottenere il tutto esaurito questo è preoccupante perché di solito agosto si mantiene da se stesso per le presenze per il mare per il sole ebbene questa volta ci sono camere libere e così anche altrove segno che le famiglie hanno meno capacità di spesa vengono meno in vacanza purtroppo con questa notizia noi terminiamo abbiamo esaurito il tempo a disposizione la nostra rassegna stampa comunque vi do come sempre appuntamento alle 7 di domani intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata per l'ascolto